Ciao ragazze, ciao ragazzi, nuovo get ready with me, chiacchiericcio oggi, so che vi piacciono molto questi video chiacchiericci e a me piace anche farli perché ho sempre tante cose da raccontarvi quindi iniziamo subito con il tutorial che è un trucco con occhi, glossi e labbra rosse come sapete sono due trend che stanno andando tantissimo per la primavera estate 2017 e quindi ho voluto abbinarli in un unico video, mi piace molto il risultato altra cosa che ho fatto è stata disegnare una strisciolina al centro delle labbra, lo vedete con un ombretto in crema argentato questa è una cosa che ho fatto extra tutorial, quindi si può naturalmente saltare, l'ho aggiunta io così per dare un look un po' più spicy, un po' più speziato al trucco ma naturalmente vedete se la saltate riesce un trucco molto più elegante e raffinato quindi questo è tutto, io vi lascio al tutorial che ho creato con prodotti dermacole, è stato fatto tutto tutto con prodotti dermacole li stiamo scoprendo insieme perché è la prima volta che sento parlare di questo brand e quindi ho voluto provare tutti i prodotti che mi hanno spedito assieme a voi in videocamera così li abbiamo testati assieme, è un brand della Repubblica Ceca che io non conoscevo devo dire ma mi sta piacendo tanto guardate questa tinta labbra se non è pazzesca, l'illuminante, cioè io mi sono innamorata veramente quindi vi lascio al tutorial, vi mando un bacio enorme e alla prossima, ciao! inizio con il fondotinta, uso il make up cover, questo è tipo il loro best seller, l'ho visto ovunque su youtube e voglio vedere effettivamente se funziona prima però vado a mischiarlo con un po' del sheer face illuminator perché ultimamente mi piace mescolare il fondotinta spero sia, sì è chiaro, è chiaro devo dire, siamo fortunati, siamo fortunati vado a mescolarlo con un po' di illuminante perché ultimamente mi piace mescolare un po' il fondotinta con un illuminante liquido per il viso perché poi la base, la base, la base è molto più luminosa sembra, devo dirvi, molto coprente quindi devo metterlo forse un po' di meno ma oggi proviamo i prodotti in diretta loro hanno questo correttore in stick che si chiama Mad Control Corrector ma siccome io preferisco i correttori liquidi vado ad utilizzare piuttosto il Lacni Cover fondotinta come correttore sfumiamo con la Beauty Blender una cosa che vi devo raccontare è che, non lo so, voglio schiarire i capelli perché io me li vedo sempre tendenti a rosso perché i miei naturalmente sono un po' ramati e io detesto, detesto da sempre il rame, il rosso dei miei capelli lo detesto, quindi pensavo di farvi tutti più chiari un po' come sono sulle punte, qua, cosa ne dite? io lo so che voi mi dite, no lascio di naturali, però non mi piace il mio colore naturale e in questo momento me li sto vedendo talmente rossi che farei una tinta da sola in questo momento poi per fissare la mia base vado a stendere l'Invisible Fixing Powder questa è una cipria trasparente molto molto chiara di solito utilizzo ciprie bianche ma questa essendo molto chiara non dovrebbe essere molto diversa da quelle trasparenti bianche come sempre vado molto abbondante molto abbondante sulla zona del contorno occhi facciamo un po' di baking molto carino questa cipra devo dire chiara, naturale, bella ora con questo pennello vado a distribuire la cipra su tutto il viso e nel frattempo vi devo assolutamente ringraziare perché mi avete lasciato un sacco di commenti carinissimi sotto il vlog che abbiamo girato a Pasqua e soprattutto mia nonna che è la prima volta che ve l'ho fatta vedere che si è concessa ha ricevuto un sacco di complimenti quindi mi fa molto molto piacere e vi devo dire che non appena perché lei è molto insicura mia nonna lei mi ha detto no mi diranno tutte che sono bruttissima per questo pennello di mia nonna ma assolutamente no e quindi poi l'ho convinta a farsi registrare ma io le porterò i vostri complimenti e sarà super super contento cioè voi non vi rendete conto di quanto la renderete felice non sto scherzando quindi grazie davvero a prendere questo duo che ha due terre praticamente una è luminosa io userò quella matte se riesco ad aprirla ok ce l'ho fatta e vado ad utilizzare la parte matte per il contouring mi sembra molto scuro questa terra quindi devo andarci piano e come al solito sotto gli zigomi wow è veramente scuro come al solito sotto gli zigomi senza sembrare Michael Jackson in thriller un po' sotto al mento poi la sfumiamo vado a stenderla non prelevo altro prodotto altrimenti veramente cioè vado a stenderla su tutto il contorno del viso uso un altro duo simile a quello di prima questo però è illuminante e blush quindi iniziamo con il blush e vado come al solito a stenderlo sulle guance e sfumiamo anche un po' questa terra che mi sembra comunque ancora molto visibile ora vado ad applicare l'altra parte però l'illuminante vediamo com'è questo illuminante oh mi piace questo illuminante lo vedete? credo si veda che carino wow però questo illuminante è wow stendiamolo un po' anche sulla punta del naso questo illuminante mi sta piacendo un sacco è pazzesco ok ora siccome mi sono dimenticata andiamo a fare un po' di contouring al naso sempre con il pennello sbagliato non fate come me prendete un pennello decente ma io ormai veramente mi trovo troppo bene ad usare questo pennello anche perché non voglio un contouring troppo forte è giusto per creare un minimo di ombreggiatura anche sotto stendo l'eye shadow base su tutta la palpebra sia su quella mobile che su quella fissa oggi faremo una specie di pazzia useremo la terra come ombretto che cosa ne dite voglio vedere che cosa ne esce vado a prendere la terra che abbiamo appena usato quella opaca con un pennello da piega tipo questo e vado a stenderlo appunto nella piega e anche sulla palpebra mobile una cosa molto molto semplice easy veloce e naturale stendo sempre lo stesso colore anche sulle ciglia inferiori non fate caso alle mie ciglia perché devo rifare l'extension tra un paio di giorni perché sono quasi completamente aia se non mi ammazzo quasi completamente calda praticamente se non mi acceco riesco anche a parlare forse oggi ora vado a sfumare il tutto con un pennello pulito aggiungiamo un po' dell'illuminante sotto l'arcata sopraccigliare ok ora vado a segnare la linea delle ciglia superiori con la Matic Eyeliner numero 2 questo è un marrone scuro sfumo un po' con il pencil brush la matita perché voglio un effetto molto naturale sugli occhi perché poi andremo ad applicare l'ossetto rosso quindi non voglio caricarvi troppo stendo la matita anche nella linea interna prima stavo per cavarmi un occhio quindi adesso mi lacrimano ok direi che siamo a posto con gli occhi anzi no manca il mascara vado a stendere questo che è il Mega Lashes Mascara Dramatic Look sulle ciglia inferiori se si formano dei grumi sulle ciglia inferiori non mi dispiace affatto devo dirvi non so se sono l'unica pazza ma mi piace ora abbiamo davvero finito con gli occhi e possiamo passare alle labbra prima vado ad usare la True color lip liner super pigmentata long lasting c'è scritto adesso la testiamo e la colorazione è la numero uno le mie labbra sembrano secchissime solo che ci ho messo il fondotinta sopra fidatemi che non lo so perché li ho idrati sempre un sacco adesso andiamo ad applicarci sopra il rossetto ho scelto questo che è il 16 hour lip color useremo solo la parte rossa perché la parte lucida voi vedrete poi vedrete adesso andiamo a stendere questo sulle labbra dovrebbe essere completamente opaco tipo una tinta ed ora con la parte lucida questa in realtà sapete dove vado a stenderla vado a stenderla sulle palpebre ne ho prelevato un po' sul dito e vado a picchiettare su tutta la palpebra mobile ok devo dire che mi piace molto questo effetto wet molto carino ed ora vado a stendere di nuovo l'illuminante pazzesco che è tipo il mio prodotto preferito di oggi assolutamente scoperta vado a stenderlo anche all'interno dell'occhio cioè no all'interno dell'occhio sull'angolo interno perché vado a piazzarmelo ok se capito voi ormai mi capite cioè il nicolese lo parlate benissimo ok e tra l'altro in tante mi avete scritto che bello sentirti parlare veneto nel vlog che bello ragazze non è veneto è triestino posso capire che è simile è sicuramente è simile e ci si capisce tra veneti e triestini però è veneto non è oddio mi sto confondendo però è triestino non veneto mi raccomando e voilà ok look completo direi quindi look completo che cosa ne dite a me sta piacendo molto devo dire mi piace molto questo rossetto di questa tonalità rosso rubino mi piace molto il fatto di avere le palpebre shiny molto wet look molto estivo è bello anche mettere semplicemente il gloss sugli occhi senza nemmeno ombretti sotto e tipo lo facevo alle mele adesso per inizio superiore adesso sta tornando un sacco se non mi ha macchiato neanche i denti questo rossetto super provosto devo dire spero vi sia piaciuto questo video ragazze io vi mando un bacio gigantesco ah volevo farvi vedere vi ricordate d'app io adesso mi sto ricordando vi ricordate il video che vi ho fatto non l'ha vi ricordate il video che vi ho fatto sulle cover e vi dicevo che stavo aspettando che mi arrivasse l'ultima è questa cioè guardate che figa che figa che è questa cover io adesso non voglio farvi perdere tempo non so se si riesce a vedere ma sono tipo io con una bottiglia di profumi poi ci sono tutte queste stelline cioè è la fine del mondo comunque ve la farò vedere meglio in un altro video sulle cover prossimamente questo è tutto bacio enorme vi voglio bene ciao ciao